Inaugurazione dell'anno giudiziario oggi in corte d'appello con la relazione della Presidente Fabrizia Franca Bandera alla presenza di tutte le autorità. Lo Stato della Giustizia è in una relazione fittissima di dati dai quali emergono sempre spunti interessanti. Il bilancio evidenziato è buono sia nel settore civile che penale ma permangono delle criticità e viene fuori soprattutto uno spaccato preoccupante per quel che riguarda gli adolescenti e i reati da loro commessi che sono in aumento. La relazione si è aperta però con una richiesta al CSM precisa, quella di nominare i vertici degli uffici abruzzesi. Il Presidente del Tribunale dell'Aquila su tutti. In entrambi i settori c'è stata una riduzione delle pendenze ma la nota dolente rimane l'arretrato ultratriennale con gli unici esempi virtuosi di Chieti e Pescara, buoni risultati anche degli uffici dei giudici di pace. La Presidente ha fatto riferimento anche a PNRR, obiettivi opportunità e riforme. C'è stata una diminuzione dei reati denunciati nel distretto e scende seppur di pochissimo il numero dei femminicidi mentre aumentano i reati commessi da minori appunto. Dei problemi poi si sono creati, si legge nella relazione, anche con l'arrivo di ragazzi ucraini per l'inserimento a scuola e altro. Nelle pagine di relazione rimerge anche il tema della necessità di una cittadella della giustizia minorile di cui si parla dal 2009. Inoltre uno spaccato anche sulla situazione carcerale in Abruzzo con i numeri della popolazione detenuta. Non ci sono problemi di sovraffollamento, si legge. Nel carcere aquilano, sorvegliato speciale da poco per la presenza del boss Matteo Messina Denaro, ci sono ad esempio 162 detenuti di cui 121 in 41 bis. Un'altra criticità è quella del quadro delle risorse ordinarie. Nonostante alcune assunzioni c'è carenza di personale amministrativo e magistrati e ancora si rilevano criticità legate alla ricostruzione del palazzo di giustizia sebbene molti interventi siano stati fatti. In corte infine si registra un incremento delle iscrizioni per delitti contro le fasce deboli e dunque violenze e maltrattamenti in famiglia.